Sciocca l'Università di Salerno dove nel pomeriggio uno studente 21enne è volato giù dal parcheggio multipiano che si trova nei pressi dell'Ateneo di Fisciano. Namir Rajoub, queste le sue generalità, aveva origini marocchine, nato a Casablanca, risiedeva all'Acedonia in Irpinia. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe deciso di farla finita dopo un violento litigio con la fidanzata, una studentessa italiana, collega di università. Un alterco violento tra Piazza del Sapere e la biblioteca ha culminato con quella che secondo gli inquirenti è stata un'aggressione. La giovane è stata infatti ricoverata all'ospedale Umberto I di Nocera per traumi al viso, fra cui anche la frattura del setto nasale. Questa almeno la versione dei soccorritori giunti sul posto. Dopo la lite il giovane si sarebbe incamminato, sconvolto verso il parcheggio multipiano e lì si sarebbe gettato nel vuoto. Le ambulanze, allertate in un primo momento per soccorrere la ragazza ferita, si sono ritrovate con il corpo esanime dello studente all'ingresso del parcheggio. Inutili le manovre di rianimazione, per Namir non c'era nulla da fare. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino e gli agenti della scientifica per i rilievi, con il magistrato del Tribunale di Nocera Inferiore anche il medico legale per un primo esame esterno della Salma. Sul luogo della tragedia si sono recati anche il rettore e il direttore generale dell'Ateneo, mentre gli investigatori stanno passando a setaccio anche le numerose telecamere di videosorveglianza dell'area e ascoltando alcuni testimoni. È il secondo suicidio che si registra quest'anno nel campus salernitano. Nel maggio scorso uno studente 19enne, Gianluca Cavalieri, si lanciò da una finestra della biblioteca scientifica. Ora questa nuova tragedia che ha sconvolto l'università.